Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Come vedete questo albero di acacia è stato spezzato in due nei giorni scorsi dalla forza del vento. Detto questo lo usiamo per festeggiare comunque il superamento dei mille iscritti. Quindi insieme a voi abbattiamo la barriera dei mille iscritti. E' bello duro eh? Ma ormai l'abbiamo preparato e cederà. Pian piano ci vuole pazienza. Un saluto dal vostro mago.